Il professor Leo Leone è stato tra i fondatori della Virtus e per la 40esima volta c'è questa su e giù. Che emozione prova a sapere che sono 40 anni c'è questa gara? Ma è una manifestazione, gara decisamente, che ormai è entrata un pochettino nella storia della Virtus e anche della città di Campobasso perché in qualche modo dà dei segnali di uno sport che avvince, che unisce, che lega. Non a caso quest'anno è stata poi scelta questa scritta uno sport che libera tutti. Uno sport che dà senso ai valori che nella nostra società sentono molto il richiamo del passato, quello della solidarietà, quello della integrazione. Ecco perché è attuale questo tema.